Anche oggi purtroppo siamo costretti a parlare di nuovo di vaccini e a rispondere nuovamente alle calunnie del PD. Il presidente Bonaccini, supportato da una parte a lui vicina, da certi personaggi a lui vicini, e supportato dal PD nazionale Renzi in primis, calunnia nuovamente il Movimento 5 Stelle postando una parte di un progetto di legge dei nostri parlamentari. Bene, dobbiamo chiarire alcuni aspetti. Innanzitutto quel progetto di legge non parlava delle vaccinazioni pediatriche ma parlava delle modalità di somministrazione dei vaccini ai nostri soldati, specialmente quelli che sono venuti a contatto con l'uranio impoverito. Quindi si trattava di un progetto di legge per richiedere l'istituzione di una anagrafe sulle vaccinazioni. Non ci sembra ci sia nulla di male. Naturalmente è stata riportata una frase all'interno di questo progetto di legge e strumentalizzata per far passare nuovamente il messaggio calunnioso che il Movimento 5 Stelle sia contrario alle vaccinazioni. Non sappiamo più come ripeterlo. Noi siamo contrari alla obbligatorietà dei vaccini ma vogliamo il metodo di convincimento e l'accompagnamento alla vaccinazione. Quindi parliamo di metodo e non di validità delle vaccinazioni. E questa dimostrazione del Partito Democratico di buttare continuamente in bagare la discussione di calunniare il Movimento è la dimostrazione che il PD non tiene assolutamente alla salute dei propri cittadini ma è concentrato solamente a calunniare il Movimento 5 Stelle. Peccato che abbiamo scoperto che anche dei senatori del Partito Democratico hanno depositato un'interrogazione al Senato dove riportano esattamente gli stessi dati che riportavamo noi e i nostri deputati nel progetto di legge. Considerazioni oltretutto che non ci siamo inventati noi ma sono l'esito di una commissione. e anche l'interrogazione dei senatori del Partito Democratico riporta le valutazioni sul possibile ruolo delle modalità di effettuazione dei vaccini come fattore capace di determinare o codeterminare patologie in particolare tumorali. Risalgono anche ai lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sull'oranio impoverito nelle diverse legislature. Bene, come vedete anche loro hanno trattato il tema e anche loro nelle modalità di effettuazione e di somministrazione dei vaccini hanno citato la possibilità di determinazione di patologie ma sono questioni ben precise e ben circoscritte alla questione dei nostri militari e dell'uranio impoverito. Quindi quello che vogliamo dimostrare noi è che il Partito Democratico ancora una volta estrapola pezzi di frasi e parti di documenti a suo uso e consumo calunniando il movimento e cercando di far pensare alle persone che il movimento sia contro la salute. Noi vogliamo assolutamente preservare la salute dei cittadini dei nostri bambini è tra i nostri principali punti di programma. Tutto quello che sta facendo il Partito Democratico in questo momento è semplicemente denigrare il movimento e creare un'immagine del Movimento 5 Stelle assolutamente non veritiera. Questo è lo stato dei fatti ci tenevamo ad illustrarvelo potete andare a verificare in qualsiasi momento perché sono atti pubblici e francamente ci siamo stancati di dover continuare a rispondere alle fake news di questo PD che anziché pensare a governare la regione è concentrato solamente a calunniare il movimento.